Musica Buonasera, sono la titolare dei bagni Belvedere di Rosolina Mari Saluto tutti, i miei clienti e quelli che magari si appresteranno a venire a Rosolina Mari Abbiamo aperto circa tre settimane fa Ci siamo messi a norma con i protocolli previsti per il Covid Abbiamo allargato lo spazio fra gli ombrelloni Le passarelle, quindi i camminatoi per raggiungere la spiaggia Abbiamo reso l'area giochi più sicura E nonostante il nostro litorale avesse già gli spazi previsti Quindi già oltre i 12 metri quadrati Abbiamo pensato di allargarli ulteriormente Per rendere il soggiorno delle persone in questo stabilimento più tranquillo e più rilassante Siamo aperti dalle ore, dalle sette della mattina fino a circa le nove di sera E questo abbiamo allungato l'orario di chiusura Per dare un servizio in più Perché visto il lockdown, visto tutte le ore in cui siamo stati chiusi in casa Diamo la possibilità alle persone che vengono al mare Di stare qualche ora in più all'aperto In sicurezza e in tranquillità Abbiamo aperto una piattaforma online Con il lungomare online Ma nella nostra pagina facebook trovate il QR code Per potervi collegare direttamente E visionare tutti gli ombrelloni che noi mettiamo in offerta Questo perché? Per rendere più veloce la prenotazione E anche per evitare assembramenti Soprattutto nei weekend Dove la gente, speriamo, si sposti per venire al mare Abbiamo anche pensato di riprendere l'animazione Sempre in sicurezza Con le dovute norme Aspettiamo, infatti pensiamo di iniziare Alla prossima settimana Ci stiamo informando Con un consorzio che fornisce animatori Che si sono debitamente formati Proprio per far giocare i bambini in sicurezza Aspetto tutti qui al nostro bagno Belvedere A Rosolina Mari in via del Moro 7 Vi invito a vedere il mio social su Facebook Quindi Bagni Belvedere di Rosolina Mari Di Cattuscia Eolindo A presto Vi aspettiamo numerosi